Ciao, come segretario uscente della Filt Camp di Peso Rubino, intanto vi saluto e vi abbraccio. Il percorso congressuale della nostra categoria è stato contrassegnato da tante assemblee e abbiamo contattato anche tante persone, anche se il clima purtroppo con cui si sono effettuate le riunioni, era un po' di scoraggiamento in quanto c'erano ben altri problemi da discutere sui luoghi di lavoro. Comunque il congresso, in particolare il nostro congresso provinciale, il nono, è un evento anche importante in quanto c'è un avvicendamento alla guida di questa categoria, quindi io da oggi lascerò e saluterò i delegati e la categoria per lasciare il posto ad una nuova segretaria, infatti è qualcosa in cui credo che il cambiamento e l'avvicendamento, infatti anche il nostro logo è Cambiamo Insieme.